Salerno. Una buona notizia per il turismo in Campania? Dal 22 maggio 2025, British Airways collegherà direttamente Londra Gateway a Salerno, offrendo tre voli settimanali. Questa nuova rotta rappresenta un'opportunità per promuovere le bellezze della costa d'Amalfi e del Cilento a livello internazionale. La compagnia di bandiera britannica sceglie di operare la nuova rotta con un Airbus 320-200, garantendo ai passeggeri comfort e puntualità.